Ciao ragazzi e benvenuti su Castillo Drums, nel video di oggi vi voglio spiegare 7 suoni di rullante in 7 minuti cioè ci provo a spiegarvi 7 suoni di rullante in 7 minuti, non so se ce la farò, forse 7 minuti sono un po' pochi vabbè io ci provo, voglio spiegarvi i suoni di rullante che secondo me sono più importanti, quelli che io utilizzo di più quelli che si utilizzano di più in generale, poi ovviamente i suoni che possono tirare fuori dal rullante sono molti, molti, molti di più di 7, però ho voluto fare questo video perché molte volte le persone pensano alla batteria come ok il rullante ha questo suono, Tom ha questo suono, Charleston ha questo suono e basta cioè come se ogni pezzo della batteria avesse un suono solo, in realtà noi batteristi avendo pochi pezzi alla fine in confronto ad altri strumenti, se pensiamo un pianoforte ha 88 tasti, noi quanti pezzi abbiamo? 6, 7, 8, poi dipende dalla batteria però quindi dobbiamo riuscire a crearci i nostri suoni e da un suono di rullante dobbiamo crearne altri oggi infatti voglio farvi vedere sia dei suoni normali che tutti conosciamo, i soliti suoni però vi voglio dare degli spunti in più su quei suoni lì, sia dei suoni invece più particolari, più strani che utilizzano solo poche batteristiche, vabbè adesso poi li vedrete quindi ci proviamo a fare questa sfida di spiegarvi 7 suoni in 7 minuti farò partire un timer per vedere se riesco a stare nel minuto di ogni spiegazione e poi così alla fine vediamo se ce l'ho fatta o no e basta quindi faccio partire la sigla e possiamo andare con le spiegazioni di questi 7 suoni i primi 3 suoni di cui vi voglio parlare sono 3 suoni normalissimi in realtà però di ogni suono voglio dirvi qualcosa in più partiamo dal primo, il primo è il suono di rullante normalissimo il consiglio che vi do per questo suono è per prima cosa di non sottovalutarlo molti tante volte pensano che suonare un groove così con il rullante normale non sia giusto si debba per forza buttare il rimshot, non è così in realtà cioè perché dipende dal suono, io ad esempio che uso suoni di rullante a volte anche molto bassi non uso il rimshot perché il rimshot peggiorerebbe il mio suono quindi il consiglio, i due consigli che vi do sono primo di suonare perfettamente al centro della pelle ci sono alcune pelli come questa qua che hanno proprio il centro segnato come ad esempio la control sound della Remo secondo consiglio che vi voglio dare è quello di provare a girare la bacchetta al contrario come sapete io uso la bacchetta al contrario molto spesso soprattutto nel suono con il rullante senza rimshot in questo modo avrete più bacchetta diciamo più peso di bacchetta che suona sul rullante quindi avrete un suono più forte e più ricco di... poi passiamo al secondo il secondo suono di cui vi parlo è il rimshot il rimshot è uno dei suoni più utilizzati da qualsiasi batterista pop, rock, funky eccetera 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 e permette di dare molto più attacco, molto più volume, un suono molto più secco al nostro rullante questo suono si fa praticamente andando a colpire insieme il bordo e la pelle del rullante è abbastanza difficile comunque dopo un po' che ci si abitua diventa semplice ma all'inizio riuscire a prendere il bordo e la pelle perfettamente insieme non è così semplice, non è proprio una cosa immediata però pian pianino che si va avanti diventa sempre più semplice riuscire a fare questo tipo di colpo il consiglio che vi voglio dare è sicuramente quello di suonare a centro pelle per avere un suono comunque sempre bello pieno e di non voler suonare per forza fortissimo tante volte c'è la gente che dice per suonare rimshot devi suonare per forza fortissimo non è vero, andate tranquilli uno dei colpi più difficili in realtà secondo me da fare sul rullante sono le ghost notes qualsiasi batterista a parte chi ha le prime armi fa le ghost notes però il problema delle ghost notes è che sono difficili da fare perché non sono precise, perché sono piano, i colpi piano sono sempre più difficili da fare perché il suono magari è quasi giusto ma non è proprio il suono che si dovrebbe avere quando si fanno quindi le ghost notes ragazzi devono essere piano ma devono essere veramente piano noi è come se avessimo due suoni distinti il suono forte e il suono piano ma nel momento in cui facciamo il suono piano di rullante deve essere veramente un altro suono è quasi come se suonassimo un altro tamburo se noi facciamo il colpo di rullante normale in questo modo e le ghost le facciamo così non va bene perché il suono è lo stesso ma un po' più piano invece le ghost devono essere un altro suono suonarle così piano fa sì che diventino veramente ghost diventino veramente fantasma quindi numero 3 ghost adesso andiamo avanti il colpo dopo di cui vi voglio parlare è il cross stick il cross stick è un colpo molto particolare che è usatissimo soprattutto nelle canzoni più lente magari nelle ballade o nelle canzoni comunque con una dinamica minore e per riuscire a suonare il cross stick noi dobbiamo andare ad appoggiare la bacchetta sulla pelle del nostro rullante e poi il suono verrà dato dall'altra parte della bacchetta con cui andremo a colpire il bordo del rullante questo è il cross stick per prima cosa io vi consiglio di girare la bacchetta al contrario quando fate il cross stick perché così suonate il bordo con la parte più cicciona della bacchetta e avete già subito un suono più bello seconda cosa dovete cercarvi il suono del rimshot perché noi andiamo a posizionare la punta in questo caso della bacchetta sulla pelle ma in base a dove andiamo a posizionarla più avanti o più indietro sulla pelle il suono cambierà completamente quindi voi dovete trovare il vostro suono suono che vi piace capire bene dove andate a posizionare la bacchetta sulla pelle la punta della bacchetta sulla pelle in modo tale da cercare di posizionarla sempre più o meno nello stesso punto per avere sempre quel suono lì un altro colpo molto simile al rimshot che però è un pochettino diverso adesso vi spiego perché è la ricerca degli armonici diciamo tramite proprio il bordo del rullante quello che si fa molto nel reggae tra virgolette ha una sonorità molto reggae con un rullante molto acute e con molti armonici e per riuscire a vedere questo suono noi dobbiamo andare a suonare praticamente come il rimshot cioè come il suono numero 2 che vi ho fatto sentire ma non andiamo a suonare a centro pelle ma andiamo a suonare molto più verso il bordo della pelle questo è un po' difficile da fare perché riuscire a beccare il bordo e la pelle a questa distanza non è così semplice nel momento in cui andate a suonare a reggae tirate il rullante un po' più del mio perché vi serve più tirato di questo e poi potete fare tutti i passaggi che volete poi altro suono stick on stick con flem non so se si chiama così ma io di solito lo chiamo in questo modo come funziona in pratica il flem lo conosciamo tutti però questo che tra l'altro potrebbe essere un altro suono di rullante ma vabbè per darvi un suono un po' diverso ho deciso di parlarvi di questo suono molto particolare in pratica come funziona per prima cosa ricordatevi il cross stick di cui abbiamo parlato prima che è questo qua in aggiunta a questo suono qua andiamo a suonare con la nostra mano forte cioè con l'altra bacchetta che ci rimane sulla bacchetta però così il suono non è il massimo invece se noi andiamo a suonare il cross stick normale ma subito dopo il cross stick con l'altra bacchetta andiamo a fare un flem diventa abbastanza interessante ultimo quello forse più particolare di tutti quello meno conosciuto di tutti settimo è un colpo che andiamo a dare su rullante ma con le mani si vedono molti batteristi che lo fanno io per primo ho visto Gavin Edison che faceva questa cosa nel momento in cui stava suonando col cross stick faceva le ghost di rullante facendo questo cioè andava a suonare con la mano le ghost quindi questo è un modo molto 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 interessante di suonare le ghost e questo modo di usare la mano ci va un po' di abitudine però è molto interessante e tra l'altro si può utilizzare o la mano normalmente come ho fatto adesso oppure facendo andare sulla pelle tutte le dita possiamo fare questo quindi viene questa cosa qua provateci un po' poi fatemi sapere qui sotto nei commenti ok ragazzi vi ho spiegato tutto sono riuscito a spiegarvi questi sette suoni del rullante in sette minuti più o meno ogni tanto sforavo un po' comunque a parte tutto fatemi sapere cosa ne pensate di queste spiegazioni di magari più cose ma molto veloci cioè se vi preferite queste cose qua tipo sette suoni in sette minuti sette groovy in sette minuti sette... ne so ma non per forza sette anche nove tre, cinque oppure se preferite che prenda un suono solo due suoni al massimo e ve li spieghi in un video più lungo fatemi sapere un po' che cosa ne pensate qui sotto nei commenti mi raccomando mettete mi piace se vi è piaciuto questo video ditemi altri suoni ecco, ecco, ecco ditemi altri suoni che è molto importante perché magari spero di non essermi dimenticato dei suoni importanti però magari qualcosa me lo sono dimenticato quindi se è così scrivetemelo qui sotto nei commenti oppure se avete un suono particolare che voi utilizzate ma lo utilizzate solo voi scrivetelo qui sotto mi scrivete io uso la bacchetta al contrario appoggiandola sulla pelle che fa boh, non lo so scrivetemi un po' quello che volete scrivetemi le vostre esperienze io con questo vi saluto qua vi ricordo di iscrivervi al canale di Andrasmi Soglie, Instagram e Facebook di iscrivetevi a Telegram ecco, questo è importante iscrivetevi al canale Telegram che riescono sempre un pochettino di cose quasi tutti i giorni direi che il video è già durato troppo quindi noi ci vediamo al prossimo di video ciao 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 Grazie a tutti